È cambiato molto in questa settimana dopo la riunione della Banca Centrale Americana e la riunione della Banca Centrale Europea di giovedì. Le banche centrali hanno palesato le loro carte, vogliono quasi innescare una recessione, si accollano, si prendono il rischio di generare una recessione pur di abbattere l'inflazione. Ma è uno strumento, intanto c'è un costo sociale che vedremo e che andremo a analizzare, ma tutto questo, ed è questo il punto di domanda, ed è la domanda che faccio a voi e alla quale ovviamente apriremo un dibattito anche nei prossimi giorni, tutto questo sarà efficace davvero ad abbattere l'inflazione? Allora innanzitutto partiamo dal quadro di partenza, vediamo innanzitutto che cosa stiamo rischiando. Allora questa è la situazione attuale, come vedete c'è un'inflazione, ho preso la situazione europea, al 6,90%, un'aspettativa di inflazione al 2,50%, quindi notevolmente più bassa l'aspettativa di mercato dell'inflazione per i prossimi 5 anni rispetto all'inflazione annuale. Un titolo di Stato a 5 anni che rende il 3,42%, quindi la metà di quello che si perde con l'inflazione, quindi il titolo di Stato non ci copre dall'inflazione, ovviamente se questo livello di inflazione dovrebbe riverberarsi per tutti gli anni successivi. Poi c'è un mutuo a tasso fisso, guardate come la stranezza di questa cosa, il cittadino privato che contrae un mutuo a tasso fisso paga meno di quello che paga lo Stato per indebitarsi a 5 anni. 3,45 contro il 3,42. Infine quanto rende la borsa e se la borsa ci protegge dall'inflazione, la borsa rende in questo momento 5,10% come dividendo, che è quella sinceramente la variabile che a me più interessa, meno del 6,90% attuale. Come inflazione, se si guardano gli utili, ovviamente invece questo livello sale in maniera abbondante al 12,33%, ecco c'è una differenza, l'utile viene prodotto dalle società, rimane in pancia la società, ovviamente si tratta di ricchezza prodotta, però il dividendo è il bonifico che vi fanno al termine dell'esercizio, quando si chiude l'esercizio ed è quella parte di utile che viene distribuita ai singoli azionisti. Allora, il rischio al quale noi stiamo andando incontro è che quel 6,90% si rifletta su quello che è il titolo di Stato a 5 anni e quindi con costi notevoli dal punto di vista dell'esborso della spesa per interessi dello Stato, così come il rischio a cui stiamo andando incontro è che soprattutto quello più negativo è che il mutuo salga di tasso di interesse e questo penalizzi in maniera significativa ovviamente chi compra una casa, il mutuo a tasso variabile, il mutuo a tasso fisso ovviamente si deve prendere in considerazione il fatto, il 3,45% che vedete prende in considerazione il fatto, come vi dicevo, che le aspettative di mercato, che la inflazione tenda a ridursi. E ovviamente anche un'inflazione su questi livelli produce un abbassamento dei prezzi di borsa perché ovviamente l'investitore vuole recuperare quantomeno l'inflazione e quindi ci produce un ritracciamento, ecco qui spiegato anche il sell-off, la forte vendita che si è vista in questi giorni. Quindi questa è la situazione attuale. Come detto, secondo me ho la sensazione, ma detta anche da Powell durante la conferenza stampa, ho la sensazione che si voglia innescare, si voglia innescare una recessione, un rallentamento, quantomeno un rallentamento di tipo economico e andiamo a vedere però che cosa ha questo rallentamento di tipo economico, chi paga appunto questo rallentamento di tipo economico. Quindi andiamo a vedere, eccolo qua, questo guardate è il rialzo dei tassi di interesse, e chi paga il conto. Se si rialzano i tassi di interesse ovviamente l'economia cade in depressione, è un ritmo di crescita molto più basso perché ovviamente le condizioni di finanziamento delle imprese si riducono. E che cosa succede? Dall'altra parte però se, come abbiamo visto, quel tasso di inflazione viene implementato, diciamo così, si riducono i consumi, quindi comunque l'impresa scende o addirittura quel tasso di inflazione se viene implementato dei tassi di interesse ci produce comunque una depressione, a prescindere che venga innescata dalle banche centrali europee, dalle banche centrali europea e americana. Però ecco, il rialzo dei tassi di interesse viene pagato dai disoccupati che non riescono più a entrare nel mercato del lavoro, dai lavoratori delle imprese fragili, cioè quelle che rischiano di andare in perdita, di fallire, e quindi si perdono dei posti di lavoro, dai liberi professionisti si vede una riduzione significativa del fatturato, dalle imprese, dagli imprenditori, dai titolari di un mutuo a tasso variabile, da coloro che hanno comprato un mutuo a tasso variabile, dai venditori di case, perché il prezzo delle case ovviamente per effetto dei tassi di interesse più alti del costo di finanziamento tende a salire, e dai risparmiatori perché ovviamente il prezzo dei mercati azionari, come avete visto, i bond tendono a reagire e quindi a scendere, a scendere. Ovviamente se si aspetta però c'è il pericolo che quel tasso di inflazione venga implementato nel tasso di interesse. Però ecco, ci sono delle categorie di soggetti per cui ci sono appunto delle categorie di soggetti invece che non vengono assolutamente toccati dal rialzo dei tassi di interesse. Chi sono e quali sono queste categorie? Allora andiamo a vedere chi sono queste categorie che non vengono toccate dal rialzo dei tassi di interesse. Come vedete ci sono i pensionati, i dipendenti pubblici, i dipendenti privati che lavorano in aziende solide quindi anche un calo del fatturato di queste aziende non mette a repentaglio il loro posto di lavoro e i proprietari delle case non gravati di mutuo magari se devono vendere la casa, la casa varrà leggermente meno però chi ha un'unica casa di proprietà non viene toccato dal rialzo dei tassi di interesse. Quindi i costi sociali sono ovviamente i costi sociali come vi dicevo sono ovviamente enormi e abbastanza importanti però ecco la cosa dove non vi è certezza secondo me è sull'idea che questa migliaia del rialzo dei tassi possa essere efficace effettivamente ad abbattere possa essere efficace ad abbattere l'inflazione e vi faccio vedere anche perché almeno stando a quello che è successo negli ultimi giorni almeno sul brevissimo periodo ecco questo è il Fusimil vedete mercati azionari sono scesi hanno scontato un rallentamento abbastanza economico è marcato un rallentamento economico è marcato della economia e dell'economia adesso andiamo a vedere invece che cosa succede appunto che cosa succede al che cosa è successo invece al petrolio il petrolio che è una delle principali fonti di che alimenta l'inflazione perché la benzina alimenta i costi di trasporto se sale il costo della benzina ovviamente sale il costo diciamo così se sale il costo della benzina ovviamente sale il costo di tutto e quindi eccolo qui il petrolio il petrolio in questo momento che cosa è successo al petrolio nonostante appunto la banca centrale americana ha effettuato il rialzo più importante e più significativo dal 1194 quindi negli ultimi 98 quindi negli ultimi 94 negli ultimi 28 anni quindi 26 anni 24 anni quindi praticamente al 98 e come vedete questo è il prezzo del petrolio che non è affatto sceso il prezzo del petrolio è rimasto lì poi ovviamente il grafico non è aggiornato agli ultimi giorni qualche cosa qualche ritracciamento ha fatto ma nulla di che tra l'altro l'OPEC Plus circolano voci che qualora ci fosse una recessione l'OPEC Plus cioè l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio aumenterebbe la produzione quindi non ho l'effetto non ho l'effetto non ho l'effetto non ho l'effetto sperato ora andiamo a vedere anche il gas vi ho portato quello che è successo alla gas eccolo qui e quindi anche il gas pochissimo diciamo così l'effetto è stato diciamo così molto l'effetto è stato molto molto ridotto andiamo a condividere eccolo qui eccolo qui la condivisione eccola qui guardate il prezzo del gas che è addirittura aumentato ovviamente sulla base di una notizia perché sembra che manca un pezzo di ricambio per quanto riguarda uno dei gasdotti il Nord Stream 1 tra l'altro il responsabile Gasprom ha fatto sapere che stanno riducendo gli investimenti quindi il prezzo del gas la fornitura si è ridotta e quindi il prezzo del gas è salito in maniera è salito in maniera è salito appunto in maniera in maniera significativa andiamo a vedere adesso altre testimonianze dell'idea che stiamo andando che stiamo andando appunto in recessione che siamo che siamo in recessione quindi un rallentamento marcato della nostra economia quindi con il successivo grafico eccolo qui che sono riuscito a portarvi eccolo qui guardate questa è l'indicatore un insieme di indicatori anticipatori dell'economia come si vede si stanno puntando sotto quota 50 sotto a quota 50 sotto quota 50 si entra direttamente in recessione tra l'altro gli Stati Uniti si stanno chiedendo se salta prima se inizia prima una crisi del debito in Europa o poi ci sarà un aumento della disoccupazione degli Stati Uniti per cui avremo questo avremo appunto questo effetto questo effetto questo effetto negativo ancora vado a farvi vedere altri grafici che ho portato che manifestano ovviamente la difficoltà che stiamo avendo in questo momento vi ho portato quello che è successo nel 2001 nel 2008 negli anni in cui si è prodotta negli anni in cui c'è stato c'è stata la crisi eccola qui allora questo è il grafico successivo guarda cosa è successo nel 2008 nel 2001 negli ultimi recenti crisi e quello che sta avvenendo nel 2022 eccolo qui state vedendo in questo momento le diverse crisi a confronto ecco provo ad andare anche sotto 2000 2008 e 2022 cioè negli anni in cui c'è stato ci sono stati dei picchi di inflazione simile molto simile a quello attuale come vedete il mercato ha bisogno ancora di sfogare di ritracciare teoricamente questi grafici almeno dimostrano dimostrano tutto tutto ciò quindi il come vi dicevo per non perderci vediamo se vi ho portato altre slide altri studi altri studi importanti eccolo qui è quello che succede può succedere ai mutui a tasso variabile con le proiezioni dalle proiezioni del future pagano euribor più uno spread eccolo qua questo è il future euribor più lo spread come vedete e si vede questa crescita abnorme eccola qua si vede questa crescita abnorme del di eccolo qui dell'euribor eccolo qui questo è l'euribor la proiezione dell'euribor che dovrebbe salire adesso è in territorio negativo è in territorio appunto negativo quindi ci sono delle serie difficoltà si aprono delle difficoltà per coloro che hanno un mutuo a tasso variabile e coloro che hanno sottoscritto appunto un mutuo a tasso variabile non credo che abbia altri studi insomma adesso facciamo un riepilogo anche per non perdere il filo del il filo del discorso e quanto eh vi ho e quanto vi ho proposto quindi l'idea è questa quindi c'è ci sono le banche centrali che vogliono innescare una recessione un indebolimento del quadro macroeconomico e per abbattere l'inflazione la domanda è se queste misure saranno necessarie per abbattere l'inflazione anche perché noi andiamo a pagare un costo molto molto elevato un dubbio che cercheremo di risolvere tutti insieme parlando io vi ricordo che questo video può essere vissero sulla pagina di Travelink nella sezione video o iscrivendosi al canale youtube di Travelink iscrivendosi al canale ovviamente cosa succede che quando viene pubblicato un nuovo video venite allertati sulla pubblicazione